Una cena cantata da tutto esaurito per festeggiare con i fans il quinto compleanno. L'orchestra del cantante fisarmonicista piacentino Matteo Bensi l'altra sera ha brindato al primo lustro insieme al ristorante Il Lupo di Ciriano di Carpaneto. Sono arrivati seguaci anche dall'Umbria, da tutto il nord, oltre che dall'Emilia Romagna e il nostro territorio. Mangiare e bere, cantare e ballare, alcuni dei piaceri più grandi della vita condivisi con i suoi musicisti, ancora uniti, forti di nuovi orizzonti artistici nonostante i due anni terribili della pandemia. Il calore costante dei fans è la spinta che ci fa andare avanti e affrontare nuove sfide, ha detto Bensi, dall'ino per la candidatura al Nobel del Corpo Sanitario Italiano alle avventure teatrali con i legnanesi a recente concerto moriconiano a Palazzo Marino a Milano. Tra ricordi e nuove prospettive, tante parole d'affetto per tutti i presenti, per la moglie Viviana, spalla fondamentale di Bensi nelle sue attività. L'idea della cena è stata soprattutto sua, ci ha confidato, è il modo migliore per stare insieme a battere ogni distanza tra noi e il pubblico. Infatti è stata una serata in famiglia, con tante canzoni e altrettanti interventi di fisarmonica. Tra i momenti da ricordare, il duetto sulle note di Caruso, con la straordinariamente promettente voce della piccola Flaminia di soli 13 anni. Hanno vinto i sorrisi e il potere benefico della musica condivisa, tra il taglio della torta e un'immancabile riffa. Una ricarica di energia in vista dei prossimi concerti, tra cui la tappa al 29 aprile al Teatro Municipale di Piacenza per il Gran Galà Amici del Cuore.